Grazie professor Invernizzi. Volendo seguire il discorso che abbiamo già messo su, tutto il MEDCOM di quest'anno si basa su una grande provocazione, che non è una questione così lì per lì, ma che viene preceduta da dibattiti riguardo al concetto di cose locale, cose regionale, cose nazionali. A volte si mette in discussione la questione dei sistemi locali facendo riferimento al fenomeno globalizzazione, oppure ai collegamenti con una posizione geografica. Ma trattandosi o no di sistemi che operano a livello locale oppure a un livello nazionale, loro hanno un'ubicazione e quindi sempre hanno a che fare con le risorse umane. Quindi parlando di sistemi locali, quando ci si presenta la discussione delle risorse umane, allora ci può essere un grande punto di intesa, anzi è un obbligo di tutti i sistemi a collaborare per questo. Quindi se la provocazione era un pro e un contro, la mia presentazione sarà una testimonianza per i pro della collaborazione fra sistemi locali. Per farla breve, perché non voglio oltrepassare i tempi, io voglio cominciare con le premisi, cioè con i punti di partenza. Teniamo in considerazione i partnership tra sistemi locali come acceleratori dell'innovazione, perché danno la possibilità, anche dal fatto che i sistemi stanno vicini, di acquisire, creare, accumulare e utilizzare conoscenza con una velocità che gli altri enti e gli altri sistemi che non fanno parte di questo circolo non hanno. Possiamo vedere le partnership locali come istituzioni oppure partnership che accelerano, supportano il sviluppo e anche nei termini dell'aiuto e della subvenzione. Possiamo vederli altrettanto nei piani e nei programmi di sviluppo e di aiuto della comunità europea, cercando di, oppure premendo molto sulla coerenza strategica, nelle maggiori comunicazioni, in quelle più importanti, è stato, cioè, presentando le riforme di supporto e di aiuto, è stato citato il termine partnership come un principio guida. E, dall'altra parte, questo elenco di eventi e di accordi mostra cosa è successo nell'altra sponda, cioè ci sono delle istituzioni che operano a un livello locale, però, quando si tratta di formazione, quando si tratta di risorse umane come base di sviluppo sostenibile a livello locale, noi abbiamo una realtà diversa a livello di Mediterraneo, perché al momento, grazie a molti sviluppi, molte evoluzioni che sono successi nell'area dell'alta istruzione, la situazione è questa, che le università europee sono capaci di assistere i paesi nelle sponde meno sviluppate del Mediterraneo per crescere la loro capacità educazionale, cioè per crescere, per far rafforzare i loro sistemi educativi e scientifici e facendo crescere così le loro capacità di sviluppare le risorse umane a un livello locale. Andiamo avanti, cioè, io voglio entrare nel nucleo, cioè, ho fatto questa presentazione, queste premesse per far capire un po' meglio cosa rappresenta il progetto del laboratorio del sviluppo delle risorse umane. È un'iniziativa unica delle Nazioni Unite per creare un bacino di interazioni fra sistemi locali come una strategia di sviluppo sostenibile e pianificato in un ambito mediterraneo. Crea una rete, questo programma e questo progetto, il programma in sé però, il progetto del laboratorio in particolare, di interconezioni fra stakeholder locali, amministrazioni, NGO, pubblici, privati e università per sviluppare una pianificazione strategica e per sviluppare le risorse umane con le necessità, con gli attributi necessari a questi sviluppi in termini di pianificazione strategica. Io, per far capire come funziona e perché funziona, perché è un caso felice di come la collaborazione fra sistemi locali, porta a sviluppo ed è una buona base di partenza, è una forza reale per lo sviluppo economico locale e quello sociale altrettanto, farò un po' una presentazione della struttura, come funziona il progetto. Allora c'è un comitato nazionale in quale delibera, definisce sulla struttura, sulle attività da svolgere di tutti i membri, di tutti i partecipanti del programma e sulle istituzioni da far entrare e far partecipare nel programma. Il segretario di atto tecnico che discute e prepara i draft, quelle informazioni e quei input che vengono dalle istituzioni locali, dalle università, dai laboratori, per preparare ulteriormente del draft da presentare al comitato nazionale riguardo alle attività di training, il supporto tecnico, la coordinazione delle attività, le relazioni pubbliche che hanno lo scopo di spargere e di promuovere, cioè di rendere presente e promuovere il programma. Poi, e questo è elemento molto importante del programma, il gruppo dell'interazione locale, con la partecipazione di rappresentanti da municipi, consigli regionali, NGO operanti nelle regioni, società civile, comunità del business e università, membri dell'università, cioè staff accademica dell'università, con lo scopo di discutere e di proporre ai enti, seguendo sempre la stessa struttura, le attività di selezionare le persone che faranno parte di questo progetto e che saranno proprio loro, verranno scelti dalle amministrazioni locali, dai sistemi locali e saranno loro che con la loro attività, basandosi nella tecnica del learning by doing, creeranno il vero database e saranno il nucleo di questo progetto. Il gruppo praticamente discuterà e darà consigli alle amministrazioni locali riguardo alla pianificazione strategica per una migliore integrazione delle risorse umane e darà degli input per un sviluppo sostenibile per far crescere realmente e per migliorare il coordinamento dei sistemi locali e sempre sarà sopportato e avrà l'esperienza e l'expertise diretta delle università come centri di eccellenza. I laboratori sono un'esperienza unica per la prima volta, le Nazioni Unite lo stanno sperimentando e credo che è un'esperienza unica in tutto il mondo. Saranno le unità di ricerca, l'unità di ricerca ma anche l'unità di analisi e questo è un caso particolare, saranno il veicolo tramite il quale si realizzerà il miglioramento delle capacità umane a livello locale tramite una partecipazione attiva di tutti i stakeholder locali. L'Università Pavarsia è una delle istituzioni locali, una delle università scelte per sviluppare un laboratorio, mentre l'altro è l'Università di Scutari al nord dell'Albania. Anche in termini regionali e geografici c'è stata una scelta molto sottile e molto ben pensata in questo senso. Arta, ancora un minuto. Ok, allora, io volevo spiegare come funziona per far capire il ruolo dei PR in questo progetto. In un minuto. Ok. Ha una dimensione multipla. Primo, per far crescere interesse ai partecipanti locali nel processo, per articolare gli interessi e per assicurare, per dare soluzioni in termini di attività che in molti casi devono essere client tailored o versate al cliente. E secondo, assicurare la trasparenza, che è uno dei problemi maggiori che ha creato diffidenza riguardo alla collaborazione locale. Per rassicurare un, diciamo, public trust e per far immergere nelle attività reali i partecipanti. Quindi il PR non è un semplice termine. Qua il PR è parte del prodotto o del servizio. E quindi con una strategia estesa di PR, tutte le fasi del progetto e del processo sono stabilite. Quindi l'output di una fase crea la base e che un output PR crea la base di ciò che verrà fatto nella seconda fase. Le strategie PR qui fanno sì che i local stakeholders oppure le istituzioni locali comunicano meglio, capiscano meglio gli interessi di un altro e capiscano meglio che certi interessi anche individuali li possono raggiungere in un modo ottimale collaborando e non facendo guerra sotto il nome della competizione. Grazie.